Eminenza, il movimento della Divina Misericordia a Gela è molto importante, raccoglie e attrae intorno a sé tantissima gente. I poveri si sentono qui molto accolti e vivono dei momenti di assoluta serenità insieme a chi ha deciso di donare la propria vita per i poveri, che poi è uno degli insegnamenti che Papa Francesco sta veramente allargendo a tutto il mondo. Gesù ha detto che senza la misericordia agli altri, misericordia non è soltanto. Non è soltanto perdono, prima perdono, ma anche donazione di se stessi agli altri, senza misericordia non troviamo misericordia. Papa Francesco sostanzialmente traduce quelle bellissime parole che i giovani e i più piccoli non hanno bisogno solo di buone parole ma anche di buoni esempi. Esatto, esatto, ma questo è fondamentale, vale anzitutto per noi sacerdoti ma anche per voi laici impegnati, perché oggi le nuove generazioni sono un po' allo sbando perché non hanno più punti di riferimento. Dovrebbero averlo in famiglia, nella scuola, nella chiesa. Non sempre diamo i buoni esempi per cui attraverso il cambiamento di vita, la conversione, a cui poi esortava Gesù con Santa Faustina, può cambiare il nostro cuore e quando cambia il nostro cuore cambia anche il cuore della storia e del mondo. C'è stata questa grande manifestazione di fede e di gioia legata alla Divina Misericordia con la partecipazione di tanti gruppi e movimenti e così anche fedeli laici che sono venuti a Gela per celebrare il sesto congresso della Divina Misericordia promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. È stato veramente un momento di grande gioia, abbiamo visto tanti giovani, tante persone anche lontane che per la prima volta hanno ascoltato questo annuncio della misericordia. Veramente è stato un momento di grazia da parte del Signore anche perché confermata la presenza di Sua Eminenza dal nostro Vescovo, Monsignor Rosario, così anche con la benedizione che il Santo Padre attraverso la persona del nostro amato Cardinale si ha fatto giungere sentendoci in comunione con la Chiesa e sapendo che siamo nel cuore del Papa, siamo nel cuore di Dio. Viviamo questo momento di famiglia, tutti i volontari che hanno lavorato per la riuscita del congresso come momento di festa insieme al Cardinale e ai sacerdoti e per il nostro Vescovo per vivere appunto questo momento di festa del Signore e benedire le cucine che il Comune di Gela ci ha donato.